Cani sfrattati dal canile rifugio del comune di Chieti. Per la regione infatti il terreno non è idoneo ed occorrerebbe una variazione del piano regolatore. Questo canile rifugio opera ufficialmente per conto del comune di Chieti che ne è proprietario ed il presidente della SADA, l'associazione protezione animali che la gestisce, non comprende le ragioni di questa strana inadempienza. È evidente che il comune di Chieti in questi anni ha risparmiato tanti soldi e risolto un problema sociale con questo canile e di questo dovrebbe esserne fiero il comune. Qui ci sono circa 320 cani soltanto dentro la struttura ma noi siamo anche in convenzione con il comune per gestire i cani che sono reimmessi sul territorio, secondo la legge che prevede che si possano reimmessi sul territorio e quindi dobbiamo occuparci sia a livello per il cibo sia per quanto riguarda la questione sanitaria o quant'altro. E' certo questo un tipico esempio di contorta burocrazia che ha indotto un dirigente a disporre il trasferimento dei cani del rifugio in altre strutture per di più realizzando una spesa di non poco conto per le casse comunali ma gli amici degli animali almeno per il momento sono riusciti ad impedire l'allontanamento dei loro amici a quattro zampe. Noi abbiamo impedito questo trasferimento perché riteniamo che sia per il benessere animale, sia per la cittadinanza, sia per i costi che questa operazione comporta sia assolutamente inaccettabile che una struttura che il comune possiede debba essere dismessa per una evidente carenza burocratica risolvibile con una semplice variante del piano regolatore. E' bene ricordare con quanta generosità gli amici dell'associazione accudiscono gli ospiti del canile rifugio di Chieti ottenendone pubblico riconoscimento. Quelli che vedete qui sono i volontari che ogni giorno vengono qui a badare a questi cani ai quali viene dato un nome al contrario di quello che succede nei canini lager e che sono affezionati alle persone come i cani padronali sono affezionati ai padroni.